Ben ritrovati oggi in primo piano l'impegno della Chiesa in favore delle persone che sono in difficoltà, il nostro ospite in studio qui a Otto Channel, Don Vitaliano della Sala, parroco di Mercogliano, vice direttore della Caritas di Avellino, ben ritrovati intanto e grazie. Allora Don Vitaliano intanto ha fatto scalpore possiamo dire stavolta il presepe vivente che si sta allestendo proprio nella sua parrocchia al fianco delle donne dell'Iran, ecco perché questa decisione, qual è il significato di questa sua iniziativa? Perché il presepe deve dirci qualcosa, non può essere solo qualcosa di artistico, sono belli i presepe artistici però anche in quelli napoletani c'è l'osteria, la bottega, ci sono i vestiti, ci sono i pastori col volto dei VIP che è discutibile però è un modo per incarnare il presepe di duemila anni fa nell'oggi. Ecco io appunto non volendo mettere volti di VIP ho pensato qual è il messaggio che dove nascerebbe Gesù oggi? Ho pensato nascerebbe in Iran ad esempio in tanti posti, in Ucraina ma in Iran forse perché la Madonna è stata una che ha trasgredito a regole analoghe a quelle dell'Iran, una donna non poteva decidere per conto suo eppure Maria decide da sola di diventare madre del figlio di Dio, decide da sola di dargli il nome che sembrano sciocchezze per noi oggi ma all'epoca era veramente un modo per trasgredire tradizioni stupide ma comunque tradizioni rischiose si rischiava la lapidazione. Maria non ci pensa due volte come le donne dell'Iran rischiano la morte insieme ai loro uomini, insieme a tante persone per fortuna nel resto del mondo e si tolgono quel velo che è simbolo di oppressione. Loro lo vorrebbero mettere liberamente non vogliono che qualcuno glielo imponga. Ecco io ho visto la Madonna così quest'anno, una Madonna che si toglie il velo per continuare a dire alle donne e agli uomini di oggi di ribellarsi a tutto quello che va contro i diritti umani, che calpesta i diritti delle persone. È un messaggio sicuramente molto significativo. Il dramma dei migranti invece, un anno Don italiano ha fatto nascere Gesù Bambino su un gommone, il dramma dei migranti che purtroppo non cambia, il Mediterraneo continua ad essere una tomba per migliaia di disperati, nonostante i vari governi che si sono succeduti di diverso colore politico, mi pare che la situazione non è cambiata. Perché? Ma io penso che più che il dramma dei migranti è il dramma della povertà, perché accanto ai migranti ci sono i poveri italiani, insomma, che vengono comunque messi ai margini, come i migranti. Non si trovano soluzioni perché secondo me non riusciamo a coordinarci. Io da anni sto dicendo di creare, nella nostra città di Avellino, ma poi si potrebbe fare a livello nazionale, un coordinamento tra le istituzioni, le forze dell'ordine, la sanità, il volontariato, quindi la Croce Rossa, la Caritas, le misericordie, per gestire la povertà, i migranti, i poveri italiani, ecco, per gestirli insieme, perché solo così si può cercare una soluzione. Invece ci si accorge sempre che poi c'è uno scaricabarile tra gli assistenti sociali, tra le istituzioni, appunto il volontariato, le ONG che diventano il capo espiatorio di tutto. Ecco, dietro c'è la volontà, come dire, di rinchiudersi nei propri recinti e di non accogliere nessuno. Natale, a proposito, noi accogliamo il Dio che viene, ma Dio non viene nello sfarzo, ma viene proprio nella povertà. Dio è un migrante che arriva e che bussa alle nostre porte. Se siamo un'Europa che si spaccia per cristiana, non possiamo far altro che cercarla, cercarla almeno la soluzione. Non è detto che la troviamo, ma io non vedo nemmeno la volontà di cercarla. Ecco, a proposito del dramma dei migranti, è proprio di oggi la notizia di questa tragedia che ha colpito un ganese che viveva qui e che voi avevate accolto presso il centro della Caritas, presso la mensa dei poveri. C'è chi vive un disagio anche di carattere mentale che non trova la necessaria assistenza. Sì, è lo stesso discorso. Adam era una persona con problemi di epilessia e di salute mentale, quindi prendeva medicine contro l'epilessia. Intanto purtroppo ci beveva sopra, quindi si creava un mix micidiale, peggio della droga, e quindi a volte sveniva come se fosse molto più che ubriaco e restava lì dove era caduto. E probabilmente è rimasto a terra su quelle strisce pedonali che stiamo vedendo ed è stato travolto e ucciso da un autopilare. Sì, anche qui ci sono avvocati senza scrupoli che si prendono, si fregano, perché bisogna dire le cose come stanno. Il gratuito patrocinio. Cercano questi disperati, gli fanno firmare l'assegnazione dell'avvocato, prendono i soldi del gratuito patrocinio e poi li scaricano da qualche parte senza più seguirli. Ecco, dopo dovrebbero intervenire gli assistenti sociali, noi del volontariato, le istituzioni. Ma questo in un mondo ideale che non esiste. Ecco, noi cominciamo proprio prendendo spunto da questo fallimento che è di tutti. La morte di una persona, una morte così, è veramente un fallimento. Ma come quella di Sergio Tomasetta nella casa, in una casa in costruzione, quella di Luciano nel mercatone. Ecco, quando succede questo adesso faremo la solita riunione in prefettura dove diremo bisogna coordinarsi, poi passano due giorni e finisce tutto. Ecco, o ognuno si prende la propria responsabilità, soprattutto chi viene pagato per far questo. Oppure veramente è meglio dichiarare fallimento, è meglio dire noi non sappiamo gestirle queste cose. Ecco, a proposito del dramma sociale che si vive ai margini, diciamo, della nostra società, il reddito di cittadinanza, se viene cancellato che cosa potrebbe accadere dal vostro osservatore? Se viene cancellato è una disgrazia. Io voglio sottolinearlo perché poi ti mettono l'etichetta io non sono dei Cinque Stelle. Li rispetto. Ma voglio dire, non difendo il reddito di cittadinanza perché appunto lo difendo ideologicamente. Ma noi ci siamo accorti nei nostri centri di ascolto che a partire dal reddito di cittadinanza, già prima con il reddito di inclusione, c'era stata una diminuzione di persone che venivano a chiedere. Con il reddito di cittadinanza ancora di più. Cioè noi ci siamo accorti che si è ridotto il numero delle persone che venivano a chiedere. Oppure se venivano ancora a chiedere ci siamo resi conto che chiedevano di meno di queste. Se portavano tre bollette, dopo il reddito ne portavano una. Che sembra una sciocchezza. Invece per noi, noi abbiamo un budget limitato ovviamente. Quindi ci siamo resi conto che serviva. Poi abbiamo pure, ci rendiamo anche conto, mi rendo conto che ci sono tanti che approfittano. Allora bisognerebbe riformarlo, sicuramente sistemare le cose. Ma abolirlo del tutto o ridurlo di molto rischia di creare non solo, di rigettare nell'emarginazione più nera tantissime famiglie. Ma poi Dio non voglia una sollevazione popolare di persone che non ce la fanno più. E questo veramente sarebbe una tragedia. Spesso parliamo, e ancora una volta lo facciamo, in questa fase di nuove povertà. C'è da fare i conti col caro bollette, con l'inflazione. Le famiglie sono in grosse difficoltà. A proposito dei nuovi poveri, alla Caritas, che storie arrivano? Ma arrivano storie di tutti i tipi. Tra le nuove povertà c'è una povertà culturale, ad esempio. Ragazzi che le scuole o i genitori ci mandano per fargli fare un po' di volontariato perché capiscano che i problemi di una persona non possono essere legati solo al cellulare, al nuovo tipo di cellulare, ma ce ne sono. Capita raramente, ma capita per fortuna. Dopo il lockdown, e bisognerebbe studiarla questa cosa, c'è un aumento di persone con problemi di salute mentale, che è un'altra povertà. Perché noi abbiamo chiuso i manicomi giustamente, ma non c'è un'alternativa. I reparti di salute mentale, ad Avellino se ho capito bene, ci sono otto posti. Non so se è una notizia, spero di essere smentito, ma otto posti per una provincia come la nostra veramente sono pochi. Poi si stabilizza il paziente e si ributta per strada. La sanità non può essere un'azienda dove si guadagna. La sanità, come la chiesa, è un'azienda a perdere. Perché non si può speculare e guadagnare sulla salute delle persone. E ancora peggio la sanità privata, perché poi si mandano queste persone a una sorta di, almeno c'è la leggenda della riabilitazione. Ma non fanno altro queste strutture private che addormentare queste persone, che cominciano a bavarsi, cominciano a non parlare più, lo dico per esperienza. E quindi, come dire, veramente ci rimbocchiamo le maniche, ritroviamo la passione dell'impegno per l'altro. Sia come volontari, quindi chi lo fa gratuitamente, sia chi lo deve fare per dovere di ufficio. Insomma, un medico non può, ma con tutto il rispetto e con tutto l'amore, insomma, non può dire che devo farci. Dopo otto giorni devo metterlo per strada. Troviamo una soluzione. Io, come dire, abbiamo trovato, stiamo andando su Marte, abbiamo trovato l'energia nucleare pulita. Cioè, noi siamo esseri umani, io ci credo, creati da Dio per custodire il creato, non per speculare sul creato. E l'altro, voglio di far parte di questo creato, io penso possiamo farcela. C'è la volontà e la passione di farlo. Chiaramente lei è un prete in trincea, quindi vive i problemi del quotidiano e vive la sofferenza anche delle persone. La Chiesa è fortemente impegnata anche per la pace. È bello quel messaggio che c'è, che campeggia sul Palazzo Vescovile di Avellino, un invito alla pace in Ucraina. C'è stato il Papa che ha pianto per la pace in Ucraina. Che segnale è stato quello? Ma questo Papa è straordinario. Io lo confesso. Quando ho sentito che veniva dall'Argentina, la prima reazione è stata, come dire, quasi di rigetto. Gliel'ho scritto anche, per onestà. e poi l'ho conosciuto nel senso che lo vedo in televisione e vedo che quello che fa lo fa col cuore, con sincerità, come dovremmo fare tutti. Se mi viene da piangere, ecco, io devo non vergognarmi di farlo. Lui appena, come dire, in quelle lacrime c'era il fallimento del suo tentativo di farsi da mediatore in quella situazione, un fallimento non per colpa sua. E c'era, come dire, la voglia di dire alla Madonna avrei voluto portarti qui un inizio di pace e invece non ci sono riuscito. Ti prende nel cuore. Ecco, io penso che dobbiamo veramente tutti prendere lezione dal Papa. È detto da me, mi rendo conto che... ma io lo dico veramente con sincerità. È il momento della solidarietà, ci ricordiamo in questo periodo chiaramente che ci sono anche persone che vivono momenti difficili. Questo Natale come va vissuto? Come ha detto il Papa, meno doni, meno scambi di regali tra noi, più attenzione ai poveri. Ma io non vorrei deprimere l'Irpinia, anzi vorrei concludere, non so se concludiamo, ma con una nota di speranza, con una nota di speranza che è reale, non è un modo di dire. Ieri pomeriggio sotto quella pioggia abbattente è arrivato da noi, mi ha telefonato una persona, dicevo il furgone pieno di roba da scaricare. L'abbiamo scaricato sotto l'acqua e quando gli ho detto devo farti una ricevuta, lui ha detto no, no, io l'ho fatto senza nessun secondo fine, perché sentivo di farlo. È come questa persona, ci stanno decine di... dalle grandi aziende alimentari alla vecchietta che porta la busta della spesa, oppure se non ce la fa ci chiama e ci dice potete venirla a prendere. Noi ci andiamo, pure se forse ci mettiamo più nafta, che insomma vale più la nafta, spendiamo più di nafta, ma quella busta di spesa o quella 10 euro, quella 5 euro che ci danno, ecco rappresenta veramente il cuore della nostra terra. Probabilmente noi, le istituzioni, il volontariato dovrebbe prendere lezione proprio da queste persone semplici, che nella loro semplicità danno, ecco, quello che possono. Oggi una persona anziana che prende 5-600 euro di pensione, ecco, gli costa comprare una busta di pasta, latte, sugo e darle alla Caritas, ma ecco, penso che ci danno una lezione di come potremmo, condividendo quello che abbiamo, gestire meglio la nostra vita e quella degli altri. E questo vale per l'Ucraina, vale per tutti i luoghi del mondo dove si vive veramente la disperazione. Se il nostro, la nostra umanità imparasse dal Natale a condividere, Dio ha condiviso la nostra vita, noi dovremmo imparare a condividere quel tanto che abbiamo, ecco, per far star meglio un'altra persona. Forse non risolveremo i problemi dell'umanità, ma risolveremo il problema di quella persona che già è tanto. Bene, grazie per questo bel messaggio, naturalmente Don Vitaliano della Sala, i complimenti per l'impegno e la grande passione che ci mette nella sua missione pastorale. Ma non è mia, è la Chiesa di Avellino che si impegna in questo, perché io, come dico, ho il volto televisivo, ma dietro c'è il vescovo che ogni giorno mi chiede se ci sono problemi, ci sono i giovani volontari, gli anziani che vengono a fare volontariato e poi ci sono i preti che raccolgono nelle loro parrocchie, ci sono tantissime persone che aiutano la Caritas a vivere. Ecco, vi approfitto per fare gli auguri a tutti coloro che ci stanno ascoltando. E naturalmente ricambiamo questi auguri e grazie a tutti coloro che si impegnano naturalmente nella Caritas di Ocesana di Avellino. Abbiamo concluso, il regge è per noi Aldo Fenizia, grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.